Game over, game over, game over, bim, porca miseria, porca troia, puttana Porca miseria, porca troia, puttana Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft Ita, settima stagione Et voilà ragazzuoli, allora, nell'ultimo episodio inerente a Minecraft Ita è stata una live In cui abbiamo iniziato la construction del, è del nostro bellissimo mob, si della nostra bellissima Iron Farm Mark 2 Extreme 1 1 punto esclamativo Allora, che cosa voglio fare adesso? Dato che ho un elitra, ancora di avanzo, voglio incantare quell'elitra e voglio assolutamente prendere dei razzetti Questa parte la posso tranquillamente fare off camera perché volevo concentrare maggiormente la nostra attenzione, porca miseria Sulla costruzione dell'Iron Titan, dobbiamo costruire ancora, dobbiamo continuare a costruire questa roba Adesso sta tutto, sta nel trovarla Ah ok, sì, c'è un sacco di roba qua effettivamente Che devo andare a posare, vabbè, dobbiamo sistemare parecchie cose Cerco l'elitra, la prendo, la sistemo, che io non ho più l'idea di dove averla messa E poi ci rivediamo Ok raga, elitra trovata, ho fatto tutti i razzi di cui potevo fare, che sono comunque parecchi E volevo trovare un unbreaking Perché non volevo utilizzare l'elitra senza unbreaking Ma a quanto pare la vedo abbastanza difficolt La cosa Respiration, sharpness, smite, venopart, loot, infinity No, no, che urto di nervi che mi date veramente Oh basta che non arriva in creeper e io continuo a cercare Smite, sharp, unbreaking, eccolo qua, bingo, trovato Quindi mettiamo questo, mettiamo questo, quanto vuoi, 3, perfetto, easy, fa arrivare easy Quindi ci possiamo tranquillamente entrare qua sopra, utilizzare questi, questo E partiamo alla volta della nostra bellissima base che abbiamo creato La vicino alla farm di ferro estrema La farm di ferro più potente al mondo Ragazzuoli, ricordo È una delle farm veramente più estreme che voi possiate mai costruire su Minecraft Eccolo qua, allora io vado a letto in volata Wow Bello Dormi? Bravissimo Free, fantastico Opera d'arte quasi Adesso, ragazzuoli Andiamo a sistemare i cosi Perché dobbiamo sistemare necessariamente dei... Oh, c'è un mob cattivo lì Atterriamo Ok, perfetto Lo sfrecciamo malissimo E vi ricordate che avevo detto che potevamo Cioè volevo capire effettivamente se potevamo tranquillamente mettere gli slime block o no Esatto, dobbiamo per forza mettere gli slime block qua Perché è un blocco solido che comunque riesce a far passare la luce Quindi per forza slime block che dobbiamo mettere qua E quindi è una farm che richiede veramente veramente tanto Io ho gli slime block per farla Quindi non mi lamento di questa cosa L'unico problema Boh Ho sentito qualcuno Non sto diventando scemo Vi giuro, ho sentito qualcosa lì dietro Il che no, forse è meglio che me lo sia immaginato Perché se no davvero pensa che ha ansia a vivere con qualcuno Dio mi sta prendendo l'ansia Vi giuro Chissà se c'è qualcuno che appare alle mie spalle davvero dietro Mi uccide mal No, speriamo No, 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 no Meno, no È comunque bellissimo atterrare sugli slime block Perché rimbalzi Ed è una cosa estremamente figa Wow Dammi questo Dammi questo Bello, lezio Fantastic Fantastic Perché siamo riusciti a fare un layer solo Praticamente Vi rendete conto Un solo layer Tac Perfetto Ok, va bene A questo punto I restanti li possiamo tranquillamente mettere di qua Che c'è comunque questa parte qui E quindi iniziamo Li finiamo di mettere qui Poi non so se ne ho altri di sotto Però comunque per ora Questi li abbiamo messi E va bene La farm sta prendendo piede Sono tonto Effettivamente Voglio andare comunque a controllare se ce ne sono altri Sfrecciamo un attimo lui Perché mi dà abbastanza fastidio Dato che Ok, spara molto molto forte No, purtroppo non me ne ero portati altri dietro Vabbè, fotte sega Allora, come potete ben vedere Ho finito di mettere tutto il No, non è tutto il vetro Ma quasi Manca Manca, no Panna grande Ma bella parte sopra Però Questo è quello che siamo riusciti a fare E quindi Necessari Adesso devo fare un atterraggio qua Non so quanto sarà fattibile E invece fremo un po' Poi ieri ce la fa E dobbiamo andare a sistemare Questa zona qui Quindi sarà Dovremmo creare questa piattaformina qua Ok Che sarà bella larga Dobbiamo rispettare Tutti i canoni Che abbiamo rispettato All'altra parte Sono lunghe Alla stessa maniera Quindi Boh Non so quanto sono lunghe In tutti i casi Le allungherò un altro po' Poi andremo a fare le rifiniture Successivamente Non voglio Evitare di arrivare Extra soglia Quindi arrivare sopra Facciamo una cosa del genere Li Li dobbiamo ricopiare totalmente Sono tre da una parte E poi ci serviranno un botto di zucche Quindi dovrò fare una farm di zucche In un prossimo episodio Potremo tranquillamente pensare Di fare Di iniziare La creazione Di una farm di zucche Perché No no Meno troppo forte Sto piccone cazzo È vero Non ci pensavo Di una farm di zucche Per il semplice fatto Che non ne abbiamo Ne abbiamo veramente poche E dobbiamo fare tante Jackal lantern Allora raga Guardate un po' Che cosa abbiamo fatto Now Ho finito Tutte le parti fondamentali Del La parte In cui vanno messe le porte Allora L'ultimo strato Questo qui Da messo con Aspetta vi faccio vedere anche Prendo Rimetto l'elitra E mi prendo i razzetti Mi riprendo l'elitra Va messo L'ultima parte Va messa normale Con materiale normale Quella sopra Vanno utilizzati Gli slime block Quindi Qui siamo A questo livello Ho finito due livelli di slime Ne ho fatto un altro Oh cavolo Eh ok Cazzo sono caduto male Devo riprendere il volo Wow E di qua invece Ne ho fatto uno soltanto Ho praticamente finito Tutti gli slime In mio possesso E questo è un bel problema Perché dovremo farci Altri diversi strati Non ne parliamo poi Con Per quanto riguarda Le cose Perché si hanno ridotti Veramente Veramente male Adesso mi vedo un attimo Lì Porca miseria Oddio Che salvata Terribile Ok Non mi parlate poi Delle zucche Perché si hanno messi Davvero malissimo A questo punto Che cosa dobbiamo fare Dobbiamo andare a costruire Magari la parte sopra Il tetto Per quanto riguarda le porte Le porte ragazzi Le inseriremo successivamente Cioè Capite quanto cazzo ci vuole Inserire tutte queste porte Sarà veramente faticoso Metterle Saranno tante tante porte Però piano piano Le possiamo mettere A questo punto Ragazzi che cosa Che cosa dobbiamo Che cosa deve succedere Beh serve Di preciso Eh sì Potremmo fare il tetto sopra Il tetto sopra Voglio forse cambiare materiale Non mi basta questo Oddio Non ci devo fare nient'altro Quindi Però potremmo utilizzare Magari materiale Che può essere Che ne so Il Le coble Sono la stone Vediamo qui come si è messi Qui abbiamo portato Un sacco di terracotta Che però utilizzeremo Probabilmente per i circuiti Perché bisogna fare Anche il circuito redstone Qua E direi di sopra Utilizzare Gli stone brick Che adesso vado a prendere Andiamo a prendere Quindi degli stone brick E facciamo tutta la parte Sopra del tetto E quindi finiamo Effettivamente le zone Delle porte Dell'iron titan Che poi non è iron titan Non so come si chiama questa Iron Più di titan che c'è Boh Li dobbiamo andare Non so come si chiama Di preciso sta farm Glielo diamo noi Un nome volendo Che ne dite Non so Proponetemi voi Qualche nome sotto nei commenti Ok so che non sono tanti Perché sono Tre stack e qualcosa Tre stack e qualcosa Non è tanto Ma comunque può Sicuramente Bastarci Ce lo faremo bastare Sicuramente per i progetti Che dobbiamo fare Quindi Tornando di sopra Andiamo a sistemare Tutta questa parte Del tetto Devo andare a vedere Le misure effettivamente Perché non me le ricordo Rivoliamo di nuovo L'elitra comunque È fottutamente comoda Dite quello che vi pare È fantastica Allora ragazzuoli Iniziamo la construction Uno Due E tre Ok Ovviamente ci dobbiamo alzare Questi due Come al solito Li dobbiamo togliere E facciamo una cosa del genere Uno Due E dobbiamo arrivare fino a qua Sono quattro da una parte Poi ne buttiamo altri quattro Quindi uno Due Tre E quattro Ben otto Ok Sì Un otto per otto E a questo punto Dobbiamo andare Piano 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 A chiudere Tutto Nella speranza Che ci bastino i blocchi Perché io ormai Non lo so neanche più Dobbiamo chiudere qua Poi qua Dall'altra parte Ci dobbiamo fare una Sorta di sistema Con i pistoni Ma i pistoni Non sono un problema Ne ho veramente tanti Quindi vado abbastanza tranquillo Su sto aspetto Dovremmo prendere anche Un altro materiale Che ci servirà Per fare una piccola parte Di circuito Ok Ce la dovremmo fare tranquillamente Quindi ci vediamo Appena ho sistemato Todo Cioè vi rendete conto? Tre stack È qualcosa Per fare soltanto Mezzo Cioè quasi tre quarti Quasi tutta la copertura Ma un quarto di copertura Poi ce n'è C'è una parte qui Che va chiusa E poi c'è una parte Tutta di là Ok No no Non lo so Se vi rendete conto Che è sta farm Che vuol dire Allora dobbiamo farmare stone Qua sopra c'è a soul touch Non c'è a soul touch C'è a soul touch Quindi posso andare tranquillamente Miniera a scavarmi Pesantemente qualcosa E prendere un botto di cobblestone E fare tutta sta storia Qua Dobbiamo fare questo Dobbiamo fare all'altra parte Insomma Beh Che dite? Sarà lunga? Io penso Penso proprio 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 Di sì Ah buttiamoci un attimo Di sotto Ok abbiamo finito anche L'ender pearl Mi rincuora questa cosa Qui non c'è nulla Che ci possa aiutare Va bene Ok ragazzuoli Right Facciamo ancora Un altro piccolo passo Ho finito quella parte Ho fatto una parte Due pezzi qua Perché ho scavato Poca cobblestone Perché volevo fare La parte più interessante Forse quella di mettere Gli sticky piston E sistemare anche Sta zona qua Ci vorrà un pochito Non ve lo nego Però noi piano piano Facciamo anche questa parte Allora gli sticky piston Servono per refreshare Alcune cose Poi il funzionamento Ve lo penso di farci Un video apposito Su come effettivamente Funziona Perché è rebuildabile Come funziona il rebuild Di questa roba qua Perché guardate che Davvero Non è proprio Banalissima Come roba Ci vuole Semplicemente Ci vuole parecchio A costruirla Perché la quantità Di materiale È veramente abnorme Calcolate C'è uno stack Più di uno stack 31 Wow Si Cioè Per più di uno stack Più di mezzo stack Ci voglio Per costruire sta roba Calcolate più di mezzo stack Quanto è Ok facciamo tutta Sta parte qua Di pistoni Non ci mettiamo Veramente niente A farla Ogni tanto perdiamo Un blocco Però l'andremo a recuperare Comunque Successivamente Non ho intenzione Di perdere Dei pistoni Ok il primo L'abbiamo recuperato Non recuperarne altri Ok anche questo Recuperato Perfetto Recuperiamo anche questo Bellissimo Oggi ragazzi Estremo Non sono neanche mai morto No Ho parlato Ho parlato Ok mettiamo la red sand La red sandstone Che metteremo Che utilizzeremo Da questa parte Non qui Ok Tac Ricordiamoci di andare A prendere il pistone Ok questa era La parte Rebuildabile Della nostra zona Ok Poi dovremo mettere Da st'altra parte Dei pistoni D'altra parte Dei pistoni Non appiccicosi Mi pare Sì dovrebbero essere Dei pistoni appiccicosi A questa parte Per far ritornare Poi indietro A un altro Ancora Un altro strato di sand Sì esatto Sono sticky piston Quindi dobbiamo Prendere questa parte Gli sticky piston Che stanno di qua E metterli Qui Quindi in quest'altra Direction Mettiamo tutti Sticky piston Dopodiché metteremo Anche di qua La red sand La red sandstone Scusate Ultima cosa Che dovremmo fare E prendere Scegliere Ecco dei colori Dobbiamo scegliere Dei colori Per ogni tipo Di circuit Ah perché Perché è stato Due in più Ce ne abbiamo Due in meno Ce ne abbiamo Scusate Perché sono 33 a botta Ce ne sono rimasti 31 giustamente Ce ne sono avanzati Ce ne sono Rimasti In meno Un paio E basta Comunque E questa parte Che cosa Dovremmo fare Ecco dovremmo Scegliere le parti Per i circuiti Perché qui dovremmo Iniziare a mettere Dei colori Si utilizza Un colore Per ogni circuito Non utilizzeremo La lana Perché non ho Una farm attualmente Così efficiente Ma dato che ho Tanta clay Probabilmente Utilizzeremo Quella per La realizzazione Di questa farm Va bene Ok Perfetto Non abbiamo Wow Nient'altro Da dire In merito a ciò C'è un creeper C'è un creeper C'è un creeper C'è un creeper Game over Game over Game over Bim Porca miseria Porca Troia Puttana Si vabbè Va a fanculo Guarda Sono respawnato Raga Va bene ragazzoli Penso che per questo video Posso tranquillamente Stare tutto Vi ringrazio Santissimo per la visione Vi lasciate un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivervi al canale Se vi è fatto Di condividere il video Su facebook Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook Instagram E Telegram Come al solito A un prossimo Video Senza creeper Per un mondo Mi piace per un mondo Minecraft Senza creeper Ciao a tutti ragazzi